La Toscana è anche una terra di grandi vini dolci. Probabilmente tutti voi conoscete il Vinsanto, il nostro vino dolce più conosciuto e lo conoscete magari perché è in abbinamento con i Cantuccini, dove io vi pregherei di non inzupparli ma di mangiarli a parte perché è un piacere diverso ma lo usiamo anche come abbinamento a volte ai crostini fegatini. Il Vinsanto nasce in questo ambiente che vedete, nasce in mezzo a Caratelli, nasce nelle parti alte delle ville in campagna dove prima si mette ad appassire l'uva, Malvasia è trebbiano ma si può fare anche con Sangiovesi, allora diventa occhio di pernice, si lascia appassire dopodiché si pressa e si mette nei Caratelli dove rimane per tanti anni in queste condizioni climatiche particolari e per questo che è così scuro, particolare e c'ha queste note che non solo ricordano il fico, il carrube, il dattero, l'albicocca ma c'ha anche queste note ossidate che ricordano alcuni distillati che fanno parte della sua magia. Ma la Toscana, dicevamo, non solo il Vinsanto, se andiamo a Montalcino, decenni, anzi secoli prima del Brunello, era una terra famosa per il Moscadello. Il Moscadello nasce dall'uva Moscato, la stessa dell'Astia, di tanti vini dolci per tutta l'Italia, per tutto il Mediterraneo e qui c'è in versione frizzante e versione passita. La versione frizzante è molto divertente anche come aperitivo per accompagnare le dolce alla frutta, delle macedonie e c'ha queste note bellissime di fiore, queste note di zagara, queste note di fiore bianco, questa dolcezza di pesca, queste note a volte anche tropicaleggianti che diventano condite anche con senape e zenzero quando poi si va nelle versioni passite. Concludiamo con una rarità, ormai è rimasta quasi una rarità, l'Aleatico dell'Isola dell'Elba, ma in realtà anche in Maremma, che è un passito da uve rosse e qui è un cardidoscopio di profumi che vanno dalla Marena al Fico Maturo, qualche nota torrefata che può ricordare il cacao e in effetti il cacao e dolce al cioccolato è un abbinamento dell'Aleatico che però nell'Elba per esempio viene mangiato col pan dei pescatori, questo pane particolare con l'uvetta e altri canditi. Grazie a tutti!